Ci siamo domandati ma riusciremo noi a mettere le mani nella terra avendo una vita così strapiena di impegni e nello stesso tempo avere un buon rapporto tra le persone. Per noi è la soddisfazione perché si lavoriamo, vediamo la nostra roba crescere, sappiamo cosa mangiamo perché ce lo creiamo noi con le nostre mani. Soprattutto imparare a far fatica perché l'orto non è una cosa si si la faccio vediamo cioè o ti dedichi bene e la fai o non ti devi dedicare per niente perché l'orto ti dà quello che tu dai e dico che ho fatto io con le mie mani con pazienza anche arrabbiandomi qualche volta quando venivo qua mi arrabbiavo più mi arrabbiavo più le piante crescevano non ti rilassa quando stai qua e sei in mezzo del mare senza pensieri. Attraverso la raccolta dei prodotti che l'orto ci dà noi dando questo ricavato alle varie parrocchie che collaborano con noi e che poi lo vanno a distribuire all'interno delle borse spesa restituiamo un po' quella che è stata l'accoglienza di Valle Noncello e della realtà di Pordenone. Penso che riassumendo in poche parole noi aiutiamo e aiutiamo tutti non ci sono colori non ci sono religioni non c'è nulla. Mi piace lavorare qua perché sto bene quindi posso continuare qua perché c'è la natura di per sé è una cosa importante. Per noi è un messaggio importante che è quello di una grande integrazione dei nostri ragazzi nel territorio e soprattutto di insegnare che anche le persone che hanno delle fragilità possono essere una grande risorsa e riescono a fare molte cose. Questo spazio che può servire come diceva Lauretta a incontri e approfondimenti ma diventa anche uno spazio nel quale il cittadino può partecipare in maniera attiva. Non ci interessano le finzioni per cui il campo è reale, l'orto è reale, i fiori lo sono, la fatica lo è, le incognite lo sono, però in tutto questo nel nostro orto sono fondamentali le zucchine ma sono fondamentali le persone. Grazie a tutti.